Buon pomeriggio a tutti e a tutti, iniziamo questa presentazione qui al Coworking Mille Piani che ringraziamo per aver ospitato questo evento. Io sono Jacopo Smeriglio e chiamerei Maglia Vetri, assessore alle politiche culturali che si è materializzata qui vicino subito per un commento in quanto comunque l'evento è patrocinato anche dal municipio. Buonasera a tutti e a tutti, io ho giusto due parole per ringraziare intanto Antonio che sta lavorando a questa presentazione da parecchio tempo e anche un ringraziamento al Coworking che si è messo a disposizione per questa presentazione, abbiamo scelto di farlo qui proprio perché è un luogo anche abbastanza rappresentativo di quello che succede in questo territorio, è uno spazio rigenerato, destinato ad attività di tipo professionale, anche culturale, quindi volevamo simbolicamente riconsegnare anche questo aspetto di Garbatella. e poi appunto volevo dire che questo libro fotografico usa un linguaggio molto potente, le immagini lo sappiamo, ma risfogliandolo ieri con più attenzione mi sono resa conto che ci sono degli aspetti che nel tempo non cambiano mai, che sono quelli appunto del creare questo enorme ingranaggio collettivo che rende questo quartiere così speciale all'interno della nostra città e questo ancora è rimasto, quindi in qualche modo siamo fortunate e fortunati a poter godere del fatto della semplicità, del godere lo stare insieme, cioè dell'usufruire di spazi pubblici, di spazi dedicati all'aggregazione della socialità, come succedeva allora. Ci sono delle scene in cui ci sono tantissime persone, quella a Piazza Santa Eurosa per esempio mi ha colpito perché così tante persone non le ho mai viste, però di fatto in questi giorni in cui abbiamo celebrato insieme il compleanno e questo è uno degli appuntamenti, ho notato come nel tempo questa cosa non cambi mai, cioè in realtà c'è voglia di stare insieme, c'è voglia di vivere, di attraversare, di camminare, di gustarsi questo territorio. Chiaramente non solo per chi ci abita, sicuramente siamo tutti molto identitari, io ci abito ma l'ho scelta, Carbatalla non ci sono nata, come invece molte altre persone che vengono raffigurate in questo libro. Ti accorgi che quello che c'è di speciale qua è quello che mettono in comune le persone, cioè quello che mettono a disposizione le persone con grande generosità e anche il fatto di aver condiviso dei ricordi così personali, dei ricordi così intimi, anche di un periodo molto difficile che è stato poi quello della guerra e vedere come c'è stata una risposta di comunità anche in questo, le sgarbatelle, la condivisione, padre Guido, cioè quello che ancora resta di quella eredità è il fatto che comunque si continua a mettere tutto in comune, cioè a mettere tutto a disposizione, a mettere tutto in un calderone che vede protagoniste le persone e la loro umanità. Quindi ti faccio i miei complimenti per questo lavoro che fa splendere una comunità, la rappresenta, la raffigura alla perfezione e volevo anche ringraziare tutte le persone che hanno messo a disposizione le proprie foto, molte le conosco, altre no, poche in realtà e mi ha veramente emozionato vedere questo cambiamento nel tempo che però resta in qualche cosa, resta uguale, quindi anche Mirella, Arcidiacono che adesso non c'è qui, Antonietta e Nerina, credo che abbiano fatto un gesto molto molto generoso nel condividere questo e nel regalare questa emozione a tutti coloro che sfoglieranno questo libro. Quindi io appunto lascio la parola a Luigi Carletti che è l'editore di TV Media e aggiungo solo una cosa appunto nell'introdurre l'editore che come ci dirà poi meglio, come ci dirà poi meglio, questa è all'interno di una collana si inserisce e di una collana che appunto è quella di come eravamo che anche non solamente a Garbatella ma anche in altri quartieri ha provato a raccontare questa, cioè a fare questa operazione di racconto di una vita comunitaria attraverso la condivisione di foto ed esperienze delle famiglie, per me questo è un fatto che ha un valore importante perché prova a ricostruire un legame che è quello tra le generazioni passate e le nuove generazioni, un legame che nella nostra società si va sempre di più affievolendo e che invece è importante mantenere, che non fa parte solo dell'identità dei quartieri ma fa parte proprio del, cioè fa uscire dalla dinamica familiare magari delle storie che appartengono ai luoghi e che fanno i luoghi e Roma è una città che è piena di storie come quelle che sono contenute all'interno di questo volume su Garbatella ma anche negli altri e quindi secondo me è un'operazione che ha un senso di esistere e sono contento insomma che comunque anche Garbatella ora ha questo piccolo pezzo di mosaico familiare poi che però diventa patrimonio di tutti e questo è il valore importante che secondo me restituisce qualcosa soprattutto alle nuove generazioni perché questo filo non si rompa di trasmissione, quindi ecco appunto lasciamo la parola a Luigi Carletti e all'editore di Pimedia appunto. Grazie, buon proseguimento. Non so se vuoi magari commentare proprio il patto della collana, l'idea della collana, qual è la costruzione che c'è dietro? Allora intanto buonasera a tutti e grazie per l'ospitalità e grazie a Jacopo Smeriglio che ci ha contribuito a organizzare questo incontro e ha anche contribuito alla fattura del libro. Come sentite dal mio accento io sono di Roma Nord però conosco bene anche questa parte di Roma perché ci ho vissuto per un discreto periodo perché ho lavorato molti anni qui a Largo Fucchetti perché lavoravo nel gruppo Espresso Repubblica prima di fare l'editore. Posso dire con tutta onestà che questo quartiere e il quartiere dove abito che è il Trieste Salario sono i due quartieri che hanno generato l'idea di far nascere non come eravamo ma Tipimedia. Tipimedia è una casa editrice romana che nasce nel 2016 per iniziativa di alcuni soci e nasce proprio da un'idea che è quella che Jacopo stava accennando poco fa cioè che Roma è una metropoli ovviamente, è la capitale d'Italia ma è un insieme di città. Voi romani li chiamate paesi perché avete un senso delle dimensioni un po' particolare però un quartiere di centomila abitanti è un capoluogo di provincia italiano quindi parliamo di comunità che più che paesi sono città o se vogliamo cittadine nella scala italiana. Appunto quando lavoravo qua la prima volta che sono arrivato a Largo Fucchetti e con alcuni miei colleghi che conoscevano la Garbatella molto meglio di me mi hanno portato a esplorare questo quartiere e dico una cosa che avrete già sentito dire da molti però la dico con tutta sincerità. Io sono rimasto a bocca aperta perché non mi aspettavo un quartiere così cioè non mi aspettavo questo tipo di architettura non mi aspettavo il questo tipo anche di familiarità di cordialità appunto come dice qualcuno un paese io preferisco dire una comunità cioè qualcosa che resisteva negli anni e che è qualcosa di autentico certo poi tutto passa tutto si corrompe tutto si trasforma però probabilmente la Garbatella si trasforma e si è trasformata meno di altri di altri quartieri e proprio lavorando e passando molti giorni qua mi sono fatto l'idea che potevamo potevamo farlo quel progetto che avevo in mente per cui quando nel 2011 ho deciso di lasciare l'allora gruppo espresso repubblica dopo un po' di tempo ho fondato tipi media e l'idea era proprio quella di partire da Roma e di raccontare Roma attraverso appunto le sue diverse comunità perché poi ogni comunità ha le sue caratteristiche ci sono ovviamente molti punti di contatto ma ci sono molte differenze la prima collana che noi abbiamo fatto è stata quella della storia no la storia dei quartieri l'avrete visti i nostri libri tra l'altro il libro della Garbatella il libro sulla storia della Garbatella è da quel punto di vista se non il libro più 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 letto più venduto sicuramente uno dei più letti dei più venduti e e quella collana ha avuto un successo incredibile nel senso che raccontare la storia dei quartieri era appunto ripercorrere 3.000 anni di storia dalla preistoria giorni nostri quindi anche molto di più dei diversi quartieri quartieri di Roma e poi sono venute le altre collane ed è arrivato il come eravamo il come eravamo nasce su un'idea molto precisa nasce sull'idea che la memoria è qualcosa che appartiene a tutti noi appartiene a tutti noi è qualcosa di condiviso e di condivisibile ognuno ha le proprie idee ognuno ovviamente ha una propria cronologia e anche gerarchia dei ricordi però poi appunto la memoria ci appartiene in una comunità è un valore è qualcosa di molto importante e quindi come appunto veniva ricordato con Antonio ci siamo messi a lavorare su questa su questa collana devo dire che che Antonio io lo ricordo beh sempre non so se a lui fa piacere è stato mio allievo all'università quindi poi mi ha ritrovato come editore e devo dire ha fatto molte cose con tipi media però ho l'impressione che questa del come eravamo sia qualcosa che lui ama in maniera particolare gli riesce particolarmente bene perché è qualcosa che lo porta a entrare in punta di piedi e chiedendo permesso nelle case delle persone no e lo fa con un garbo e una gentilezza io dico sempre tipicamente piemontese che non è falsa e cortese ma è invece assolutamente cortese e anche autentica e devo dire abbiamo abbiamo avuto da parte di tutti degli abitanti dei residenti un'adesione a questo a questo progetto grandissimo pubblichiamo le foto quelle più diciamo che riputiamo più significative che sono poi le foto degli album di famiglia quelle che tutti noi abbiamo no e che magari teniamo in un cassetto in cantina in soffitta poi però le ritiriamo fuori no nel mondo del digitale c'è ancora chi dice vabbè ma no le foto sono quelle non riusciremo mai ad avere col digitale quello stesso valore quello stesso impatto quella stessa carica emotiva che da aprire un album di fotografie ecco io credo che l'album di fotografie come il libro sia qualcosa che resiste alla rivoluzione di digitale per fortuna c'è qualcuno che o qualcosa che un po resiste lo dico anche da editore digitale però qualcosa serve Antonio con le persone e credo che qui ci siano molti che ci hanno che hanno contribuito a questo libro ovviamente li ringrazio ha fatto questo lavoro poi chiedendo anche dei contributi di tipo appunto autoriale cioè ha chiesto di scrivere e di ricordare quello che ne viene fuori ora io credo che ognuno guardi il proprio quartiere no mi sembra mi sembra normale però se vi alzate un po' vi sollevate a 100 metri d'altezza non troppo ma 100 metri ecco cosa cosa viene fuori da una collana del genere viene fuori un lavoro sulla memoria in tutte le zone di roma cioè tutti i quartieri hanno questo tipo di racconto tutti alcuni al momento hanno questo tipo di racconto ed emerge questa narrazione fatta di foto fatta di ricordi fatta di emozioni che appunto è una narrazione in bianco e nero e anche questa è un'altra cosa molto bella perché nel nel mondo di oggi fosforescente e pieno di colori e di informazione è una è un'informazione se vogliamo una narrazione più lenta in bianco e nero ma che ci restituisce il sapore di anni che sono che sono importanti ora io penso che questi siano libri interessanti preziosi sia un'operazione editoriale certamente riuscita come viene detto e questo ce lo dicono anche le venti ce lo dice poi il mercato nel senso che poi questi sono libri che si vendono però io credo che sia anche un'operazione culturale importante non siamo i primi a farla non saremo certo gli ultimi noi l'abbiamo fatta così l'abbiamo strutturata in questo modo e credo che per una comunità sia importante per roma a mio modesto parere lo è ancora di più perché questa è una città se la vogliamo definire così è più di una città è una metropoli fatta di tante città diverse che soprattutto nell'ulto negli ultimi anni io ci vivo ormai stabilmente dal 2000 anzi dal 1999 secondo me un po la persa la la cura della memoria ha un po perso alcune tracce a noi di roma parliamo raccontiamo tutto il bello che c'è però questo è un elemento credo abbastanza importante ecco questa è un'operazione che è un mattoncino nella costruzione di una memoria di una memoria condivisa ovviamente si può fare molto di più si può fare anche meglio però credo che antonio con tutto il team di tipi media e tutte le persone soprattutto che ci hanno dato una mano abbiano fatto un buon prodotto un buon prodotto editoriale voglio dire e di questo ovviamente vi ringrazio tutti allora ringraziando luigi carletti appunto editore tipi media chiamo qui antonio tiso che oltre ad essere diciamo il curatore del volume è anche la persona che poi effettivamente come si diceva prima si è premurata di andare a ricostruire un po anche andare a parlare con le persone a entrare dentro le case e l'elemento che si diceva prima della delicatezza secondo me è un valore che poi si ritrova nel libro nel senso che dovendo intercettare soprattutto da persona che viene da fuori il quartiere che di solito è anche un elemento anche un po di diffidenza magari nei confronti della storia della ricostruzione perché ci sta sempre l'idea che magari non si possa cogliere fino in fondo l'anima poi in realtà può dare un punto di vista differente che con delicatezza può creare un'altra fotografia del quartiere e questo secondo me è quello che c'è qui dentro ed è un valore aggiunto in qualche modo del libro e quindi per questo ti volevo chiedere come è stato effettivamente poi iniziare questo percorso come è nato il libro come è cresciuto come si è strutturato e quindi questo raccontaci un po cosa c'è dietro questo lavoro di come eravamo Gerbadella Intanto grazie a tutti di essere qui, grazie a Mille Piani che ci ospita e grazie, è il terzo, che dico a tutte le persone che mi hanno aiutato perché questo libro non esisterebbe senza le famiglie, non vi cito uno a uno altrimenti facciamo tardi però lo sapete chi mi ha aiutato ringrazio anche chi non c'è che come ad esempio Mirella Arcidiacono che per me è stata la mia Beatrice, come fossimo ai tempi di Dante senza la quale veramente questo libro sarebbe penso un terzo di quello che è ma veramente ci sono persone che adesso stanno anche in ospedale che ho intercettato quando stavano meglio il valore di questo libro è un po' riuscire a catturare in senso buono le storie ora perché poi ci sono appunto, c'è un tempo che ci è dato ognuno di noi e ad esempio Aurelio Mortetta che è un molto anziano artigiano che adesso vi leggerò un passaggio di un'intervista che abbiamo fatto con lui ad agosto sta piuttosto male in questi giorni e quindi io ho tutta la sua famiglia che non può essere qui appunto per questo quindi il mio lavoro è appunto di cucitura poi delle vesti e dei tessuti che voi mi avete dato quindi in quel senso sono quasi un sarto un artigiano unisco diciamo una competenza un po' poi fotografica, giornalistica che mi aiuta a rintracciare poi il materiale e a dargli un ordine però effettivamente poi le stoffe me le danno gli abitanti allora io la gambatella la conoscevo già da quando studiavo ancora in università a Pavia perché dal fin di Nanni Moretti che mi aveva affascinato tantissimo caro diario mi ha fatto pensare a Roma una città che non è solo il Colosseo e ci sono questi quartieri che un giorno vorrei conoscere e non mi immaginavo che poi le eri anche raccontati appunto con le vecchie foto quindi quando abbiamo iniziato questa collana siamo partiti appunto da il quartiere dove c'era e c'è la casa editrice Tipi Media per poi muoverci diciamo un po' a macchia d'olio San Lorenzo, Il Nomentano, Montesacro e avevo in mente la gambatella però mi metteva un po' d'ansia perché sapevo che qui c'è una comunità molto forte e dicevo se lo faccio male mi fanno nero quindi aspettiamo, giochiamocelo più avanti quando magari anche io un po' più di pratica con questa collana perché bisogna entrare nei luoghi anche con curiosità e passione però anche avendo coscienza che ad esempio la gambatella ha una storia stratificata interessantissima e ci sono tante comunità qui che sono passate generazioni ognuna delle quali ha qualcosa da dire quindi diciamo poi alla fine ho scalato questa montagna e ho fatto del mio meglio e il risultato è questo vi leggo qualche passaggio che ho riportato nel libro perché poi per me parlare con gli abitanti è fondamentale non solo per raccogliere le foto ma per farmi raccontare le storie che sono dietro le foto perché appunto non è solo a noi non è mai interessato completamente diciamo l'aspetto estetico di questa collana cioè sì, conta l'estetica però diciamo non è il primo obiettivo il primo obiettivo è che i libri come in questo caso la gambatella abbiano diciamo un'anima e quindi l'anima passa dalle persone dai loro racconti infatti penso di aver bevuto tantissimi caffè e tazze di tè in questo quartiere io non ne bevo molto di caffè ma qui ne ho bevuti veramente tanti allora vi leggo un passaggio dell'intervista con Aurelio Mortet questo orafo della gambatella e dice beh lui è nato nel 1934 dice avevamo una fame che non finiva più e parla della sua infanzia alla gambatella durante la guerra non veniva nessuno a rubare a casa perché non c'era niente da prendere con la stessa chiave nel mio condominio potevi aprire anche gli appartamenti del secondo e del terzo piano se tornavo da scuola e i miei genitori non erano rientrati mi facevo prestare la chiave dalla vicina a raccontarlo oggi sembrava impossibile ma era così e poi va avanti parlando del periodo della guerra quando suonava la sirena correvamo a nasconderci a rifugio nelle catacombe di Santa Commidilla in quel periodo avevo paura anche di andare al bagno o entrare in una camera al buio poco dopo l'armistizio dell'8 settembre una signora che vendeva la frutta con un caretto conosciuta da tutti come la Bardellona era affacciata al balcone davanti al cinema Gambatella in zona via Caffaro mentre si sbracciava per segnalare ad alcuni ragazzi l'arrivo dei tedeschi qualcuno le sparò col mitra il signor Pompeo, il suo vicino la trovò in una pozza di sangue sul pavimento di casa quell'episodio mi insegnò per tutta la vita sono cresciuto all'8-10 in via Enrico Cravero Venti Scalazzetta, Internotto mio padre da antifascista perché poi questo è un aspetto enorme della Gambatella l'antifascismo sempre attuale peraltro come vediamo dai fatti di Firenze di questi giorni per esempio mio padre da antifascista mi mandò a scuola a via di casetta dalle suore benedettine ci davano la minestra e la merenda nel canestrello alla fine della seconda elementare però il regime fece pressione sulla nostra famiglia e su altre della zona perché andassimo alla scuola statale così iniziai a frequentare l'istituto di piazza Damiano Sauli ricordo ancora il maestro Pecchiari veniva a scuola in divisa fascista ci dava le bacchettate voleva che portassimo chiodi e altri materiali in ferro perché l'esercito italiano ci facesse i cannoni erano anni in cui la fame ti portava a fare cose impensabili ricordo che da ragazzino a casa non avevamo nell'acqua potabile nel gas di giorno andavamo alla fontanella di via delle sette chiese per riempire i secchi e si faceva la fila il carbonaro che stava lì accanto di nascosto bagnava con l'acqua il carbone che vendeva in modo che fosse più pesante e potesse così guadagnare qualcosa in più davanti a casa mia c'era un grande prato con un casale la tenuta Serafini nei giorni più duri dell'occupazione gli abitanti andarono a saccheggiare il carbone per scaldarsi un po' una sera del 1943 un amico di famiglia il signor Illuminati stava facendo rientrare a Monti con un grande sacco di farina ma era tardi ci chiese allora di fermarsi a dormire da noi perché temeva che col coprifuoco qualcuno gli avrebbe sequestrato tutto il prezioso carico mio padre però in cambio gli chiede un sacchetto di farina e io questo il quartiere è cambiato però quest'anima appunto popolare antifascista va anche sincera perché come sono stato accolto qui lo devo dire in altri quartieri senza fare i nomi però non è successo solo San Lorenzo e in parte Montesacro il Tuffello li metto un po' sullo stesso piano dal punto di vista umano quindi sono stato quasi un po' adottato e credo che poi la forte spinta che mi ha dato appunto la comunità della Garbatella che mi ha aperto le porte di casa senza conoscermi alla fine comunque erano sconosciuto però la diffidenza se ne è superata subito dicendo sono amico di mi manda e da lì appunto questo lavoro e persone che si sono sforzate anche di ricordare passaggi di vita appunto lontani nel tempo come per esempio poi lascio la parola a Jacopo che ci leggerà un passaggio del testo che ha scritto lui dedicato al Trisnonno Enrico Mancini lebanista partigiano che anche questa è una storia bellissima perché poi la Garbatella penso abbia talmente tante storie che si potrebbe fare una serie di cortometraggio di film ognuno dei quali cioè sarebbe veramente forte leggo questo passaggio poi passo la parola a Jacopo campi di papaveri prati e la marana vicino alla chiesa di Santa Galla c'è stato un tempo in cui i lotti della Garbatella erano immersi in un paesaggio agresse e sembrava di trovarsi in un paese le famiglie erano numerose alcune vivevano in una stessa stanza a raccontarcelo è Rina Perugia che oggi non può essere qui e anche lei l'augura di salute Rina dice dopo la seconda guerra mondiale c'erano appartamenti composti da quattro camere da letto in ognuna delle quali abitava un differente nucleo familiare a noi degli alberghi davano la minestra alla scoletta poi diventata casa dei bambini ci andavamo con la scodella di latte e suor Luisa la riempiva di pasta cannolicchi e fagioli in estate scendevamo al portone con una cirioletta e si mangiava seduti sulle seggioline con l'arrivo del primo benessere cambiarono invece le abitudini iniziamo ad andare a cena fuori le donne preparavano il fagotto col cibo e poi al locale si ordinava da bere una bibita come l'aranciata il chinotto la spuma o il vino per gli adulti mio padre ci portava dal suo ragusto oggi è il timoniere era un po' sorrinomato si affacciava sui cortili i bambini potevano giocare mentre i genitori chiacchieravano al tavolo questi sono alcuni passaggi mi sono accorto che infatti poi ne abbiamo parlato con l'editore con Luigi di solito i volumi del come eravamo si fermano a pagina 204 206 e ci siamo detti qui c'è troppo materiale sembra di fare un torto alla generosità davvero delle famiglie e quindi insomma gli ho chiesto se potevamo allungarlo portarlo a non so se 232 o 234 quindi è alto materiale insomma uno potrebbe già fare un secondo volume perché in frattempo mi arriva ma sono ancora in tempo magari per la ristampa adesso passo la parola invece a Jacopo che lui ha scritto un testo molto prezioso sul trisnonno partigiano la garbatella cominciava a vivere al di là dell'ostiense poco lontano dalla piramide al progetto iniziale dei lotti della città giardino il fascismo aveva aggiunto gli alberghi suburbani chiamati così perché vi sarebbero dovute transitare temporaneamente le famiglie degli sfollati degli sventramenti del centro storico decine di antifascisti furono portati a vivere da una seconda metà degli anni 30 ogni albergo rispondeva a vigilanti in camicia nera che si occupavano della riscossione delle pigioni e della guardiania Enrico Mancini e la sua numerosa famiglia vennero trasferiti dai fascisti all'843 e poi avvenne la battaglia di Porta San Paolo il 10 settembre 1943 la mattina di quel giorno eroico in cui le divisioni dell'esercito e le formazioni clandestine antifasciste alzarono le barricate contro i nazisti tra i mille valorosi che combatterono nell'estremo tentativo di difesa della città c'era proprio Enrico Mancini che allora aveva 46 anni e sei figli nei mesi che seguirono le sue attività clandestine si intensificarono la mia bisnonna Elettra raccontava come spesso lei e i fratelli si dedicassero a diffondere materiali di propaganda antifascista per le strade della Carbatella in casa e nei magazzini il papà Enrico nascondeva materiali soldi e persone in clandestinità un'intensa attività che non sfuggì alla polizia segreta fascista il 7 marzo 1944 Enrico Mancini venne arrestato sotto lo sguardo impotente della figlia Elettra e trasportato nelle carceri della pensione oltremare trascorse 13 giorni nelle mani della banda del fascista Pietro Koch fu torturato ma non riuscirono ad ottenere da lui alcuna informazione venne trasferito con le costole rotte e molte contusioni a Regina Celi il 20 marzo 1944 appena tornato libero ricominciò a combattere contro i fascisti per quelli ideali per cui aveva sempre chieduto il 24 marzo 1944 quando nelle grotte di Tufo che circondavano la via Ardeatina i nazisti fucilarono 335 uomini per rappresaglia contro l'attentato partigiano subito in via Rasella tra loro c'era proprio Enrico Mancini il cui corpo martoriato dalle esplosioni fu identificato solo grazie al pettinino con cui era solito sistemarsi i capelli il volto e il nome di Enrico Mancini sono oggi sui muri e per le strade della Carbatella una targa lo ricorda all'843 una pietra di inciampo è stata apposta a via Percoto in piazza Bartolome Romano il suo ritratto rappresenta e ricorda tutti i 335 martiri delle fosse Ardeatine che sono oggi memoria collettiva popolare di sangue qualche generazione è passata da quando Enrico Mancini è arrivato alla Carbatella agli alberghi non ci abitiamo più questa storia però la portiamo dentro ognuno a modo suo in una famiglia numerosa qualcuno ha continuato a praticare l'impegno politico e civile come scelta di vita l'antifascismo l'abbiamo cullato tra i racconti e i ricordi di chi come la mia bisnonna Letra e suo fratello Riccardo ha dedicato amore e rabbia nel lasciare che piccoli frammenti di guerra ci graffiassero nel profondo e così noi non abbiamo dimenticato adesso abbiamo alcune foto selezionate che possiamo vedere sì una dopo l'altra vai Felipe lanciaci le foto sì abbiamo scelto una piccola selezione di foto perché sono veramente tante così anche chi non ha mai sfogliato il libro insomma può e vabbè questa è la posa della prima pietra compleanno famoso del 18 febbraio del 1920 alla presenza del re ok va pure avanti Felipe e qui vabbè il quartiere già sta prendendo piede sono appunto le foto comunque del capitolo delle origini queste siamo già in fase un po' più avanzata in realtà perché dalle prime case a Piazza Brin quelle ispirate alle Garden City inglesi siamo passati già alle case economiche e poi alle case alberghi ok puoi andare avanti e qui appunto a Piazza Biffi qualcuno sarà familiare qualcuno magari di voi vive qui sono foto bellissime che mi ha dato Gianna Moriani che ha tutto un archivio appunto sulle origini andiamo pure avanti e vabbè i primi operai che hanno costruito i luoghi dove ci troviamo poi vabbè lo sapete quando finiva un cantiere se non c'erano stati incidenti facevano sempre un pranzo mettendo la bandiera e festeggiando i panini e il vino questa è la foto appunto di fine cantiere di un edificio ok e qui vabbè i palazzi già prendono la loro fisionomia però appunto c'è ancora un somarello quindi insomma il quartiere è in evoluzione ok e poi vabbè ovviamente c'è bisogno di chiese di scuole i servizi tutto quello che fa una comunità appunto tale no? ok e qui un altro luogo che conoscete molto bene no? San Filippo Neri che poi è cambiato nel tempo ok e vabbè la centrale Montemartini che è stato uno dei motivi poi per cui è stata costruita la garbatella no? per dare casa a chi lavorava appunto nella zona industriale lungo il Tevere no? dai mercati generali alla centrale al gasometro sì 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 ok andiamo avanti e poi vabbè sì le prime famiglie no? questi sembrano proprio appena arrivati come avessero fatto un viaggio in nave a terra e sull'oceano no? hanno quella quella danno quella sensazione no? come di un viaggio lungo alcuni appunto magari arrivavano dagli sventramenti del centro di Roma altri anche da paesi dell'Abruzzo come Tagliacozzo venivano qui perché magari avevano amici o parenti e quindi dicevano sta nascendo un nuovo quartiere e stiamo arrivando ok e vabbè poi le foto delle scuole per me sono sempre tre le più belle perché magari quelle delle piazze e delle strade un po' di più si vedono anche nei bar di quartiere nelle pizzerie però quelle delle scuole insomma stanno veramente nei cassetti delle famiglie ecco è difficile vederle nei luoghi pubblici quindi vabbè le prime scuole ovviamente qui siamo a poca distanza da dove ci troviamo adesso le strade sono ancora sterrate no? in parte il fango i caretti ok questa è una foto che probabilmente avete già visto perché siamo stati fortunati a trovare gli originali ecco in questo caso questo ad esempio non stava da una famiglia ma all'ICCD insomma un istituto insomma del del ministero della cultura ok e poi vabbè le baracche di Tormarancia perché diciamo la struttura del libro ha uno schema che in qualche modo si ripete di quartiere in quartiere no? però poi ogni libro ha anche le sue peculiarità in questo caso Tormarancia che non è Gambatella quindi prevengo chi dice no ma perché l'ha inserito il motivo ovviamente è che chi viveva nelle prime baracche di Tormarancia e poi successivamente dai primi anni 50 nelle case che presero il posto beh non avevano servizi quindi ovviamente si appoggiavano la Gambatella per tutto scuola medici ambulatori le chiese i negozi e poi i bambini ecco anche questo è un tema che ricorre nei quartieri facevano una sassaiola no? una cosa che oggi le mamme avrebbero i brividi no? sapere che i figli vanno a fare sassaiola all'epoca invece nei racconti che mi fanno i più anziani è uno degli sport più diffusi quasi come il pallone no? sassaiola tra di rimpettai no? ok e vabbè poi questa è una processione che parte dal San Filippo Neri quindi il quartiere che si compatta no? intorno a eventi appunto politici come avevamo detto anche la lotta partigiana ma poi anche eventi religiosi no? che aggregano tanto qui c'è una colonna di persone il quartiere ha già una sua identità ormai andiamo pure avanti e questa che me l'ha data Rina una signora appunto che ho anche Rina Perugia che oggi non può essere qui che lei era di famiglia ebrea è scampata anche ai rastrellamenti era bimba si rifugiò poi appunto dalle suore no? e anni dopo Rina è in basso a destra con la maglioncino nero mi ha dato questa foto insomma fine anni 40 credo o no forse anche prima subito dopo la guerra di quando era andata a una colonia estiva ecco poi appunto c'è tutto il capitolo molto bello nel libro sulle gite fuori porta allora ci sono libri come Prati dove le gite fuori porta allora lì mi hanno dato foto che le famiglie si muovevano andavano a Londra a Parigi ma poi non le abbiamo messe perché aveva poco senso e invece le gite fuori porta alla Gambatella erano per Prati con la coperta e i panini i luoghi più lontani erano Tagliacozzo se qualcuno aveva dei parenti tipo in Abruzzo oppure Leur il Divino Amore sì Ronciglione la Basilica di San Paolo fuori le mura sì infatti qui ho una delle cose più buffe che mi hanno raccontato delle signore che quando a un certo punto arriva un primo benessere diciamo che poi è sempre relativo un po' al quartiere perché per tanto tempo qui le persone si vergognavano anche di dire nei colloqui di lavoro che vivono la Gambatella magari dicono no io vengo da San Paolo vengo da Ostienze e comunque quando arriva una prima forma di benessere e il papà diceva vabbè oggi andiamo a mangiare fuori in realtà la mamma doveva comunque cucinare non è che nessuno la sentava doveva semplicemente preparare il fagotto che poi si portava fuori quindi mangiare fuori era comunque sempre un carico di sì era semplicemente che si beveva qualcosa fuori e si mangiava fuori però comunque c'era un impegno per la donna di base perché l'uomo mai avrebbe cucinato e quindi nel libro ci sono appunto molte foto c'è questo capitolo molto divertente sulle gite fuori porta che alleggerisce anche un po' alcuni temi più impegnativi come appunto la lotta partigiana la guerra ci sono questi temi anche un po' di alleggerimento che però la nostra vita è anche quello e vabbè lo sport poi ovviamente diciamo un tema enorme anche la gambatella box calcio gare podistiche pugilato ci sono diverse foto insomma che raccontano questo mondo della gambatella le gare ciclistiche e quello che colpisce e anche la sicurezza che è tutto meno che sicura però in qualche modo c'è un ordine ci sono bambini arroccati in luoghi pericolosissimi che oggi sarebbe impossibile organizzare le iniziative manifestazioni sportive così quindi queste foto secondo me ci restituiscono anche la bellezza proprio che un po' abbiamo perduto senza essere nostalgici però alcune cose sono proprio belle come erano e vabbè qui abbiamo Enrico Mancini il giorno nel matrimonio o giusto no questa è Lettra è la figlia ah è Lettra la tua nonna è bisnonna questa era la Cresimo ok scusate lo svarione ok e vabbè poi ovviamente allora la persona che mi ha dato la foto è questo bambino che praticamente quando arrivarono finalmente gli americani era il 4 giugno con la liberazione e lui stava passando in quel momento perché aveva saputo che distribuivano del pane gratis e allora stava andando a prenderlo per portarlo a casa in quel momento vede arrivare il carro armato un po' come il figlio di Benigni nella vita è bella e chiede di salire su cioè per lui era una cosa incredibile in quel momento passava un un fotoreporter di un'agenzia che fece sta foto e questa foto praticamente fu poi inviata negli Stati Uniti lui ha scoperto questa foto anni e anni dopo per motivi molto casuali un gemellaggio con questo una cittadina negli Stati Uniti dove viveva il fotografo che ha fatto questa foto è una storia incredibile e praticamente quindi una qui da non dalla Garbatella ma dalla zona della Magliana dove vive questo bambino adesso non mi ricordo il nome ho troppi nomi nella testa e praticamente suo fratello andò negli Stati Uniti per questo gemellaggio con un gruppo della Magliana ci fu questo scambio e un anziano fotoreporter in pensione disse senti io ho delle foto di quando ero lì appunto il giorno della liberazione te le posso far vedere e gli fece vedere e lui disse ma questo è mio fratello incredibile è mio fratello quindi poi abbiamo avuto la copia e appunto quindi il bambino in alto che sta lì con un'amichetta comunque andavano a prendere il pane che distribuivano gratis per le strade ok e vabbè poi il quartiere insomma dall'alto ci sono ancora tutti questi spazi verdi che vediamo quindi gli speculatori hanno ancora molto lavoro da fare però la garbatella è già lì insomma col suo nucleo appunto le foto anche di 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 gite sono molto belle sempre che ci ricordano un po' qui siamo vicini a dove stava la Cristoforo Colombo poi ok questa la mamma di Antonietta che per me è una delle foto più belle del libro e racconta un po' proprio anche l'anima della garbatella no con questa gentilezza che c'è e con questo spirito semplice ok e poi vabbè insomma ci sono tante foto del mondo del lavoro che sono meravigliose secondo me una delle cose più interessanti di di un volume come questo è appunto che i protagonisti sono poi le persone comuni no a volte anche gli eroi persone magari erano persone comuni sono diventati eroi loro malgrado anche però le persone comuni che appunto che poi siamo noi e quindi in qualche modo ci rappresenta tutti no a vedere le foto appunto dei matrimoni del mondo del lavoro ok ovviamente senza casco in treno bellissima io adoro queste cose fermo ok e beh la famiglia la piccola Hollywood come l'abbiamo chiamato questo capitolo del libro con la famiglia amici chiamato delle foto molto belle del papà cantautore no stornellatore e alvaro e poi appunto ci sono altre foto dedicate agli attori che sono conosciuti in tutto il mondo infatti uno degli episodi episodi più buffi che lo raccontava il bambino che poi è diventato uno dei protagonisti di ladri di biciclette sì staiola Enzo che venne qui apposta alla garbatella a casa sua John Wayne a cavallo a conoscerlo di persona perché stava lavorando a un film era non lontano dalla garbatella e praticamente aveva il mito del piccolo Enzo che per me era un bambino poi in realtà e quindi bussò a casa si fece dall'indirizzo e bussò a casa della famiglia Staiola e il portinaio andò da mamma e disse sento c'è signore a cavallo come un signore a cavallo si cerca suo figlio mio figlio che ha fatto che ha fatto no ma chi è come si chiama vado e torno e dice dice che si chiama John Wayne ed era John Wayne quello vero che voleva conoscere il piccolo Enzo quindi insomma diciamo questo libro ha un po' se vogliamo si ha un merito appunto quello di fissare alcune storie che non stanno nei libri di storia che stanno magari sulle nostre bocche nei bar o a tavola a cena a Natale ma ti ricordi quell'episodio è un po' questo il senso del libro ok a me poi chi sfida in qualche modo legge di gravità lo metto sempre nei libri se posso c'è questo senso di leggerezza vabbè poi c'erano appunto anche famiglie che gestivano le giostre i giostrai che quindi vivevano sempre a Garbatella quindi loro erano di Garbatella però vivevano nel loro roulotte tra l'altro questo ragazzo poi è morto pochi mesi dopo la foto e quindi diciamo la sua famiglia ci teneva particolarmente che la foto venisse pubblicata ok andiamo verso la fine e questa è Mirella Arcidiacono che è la mia Beatrice nel girone dantesco della Garbatella e già da piccola studiava da fata e vabbè poi i matrimoni insomma c'è tanta gioia ecco nel libro tanti momenti proprio di festa le prime donazioni del sangue a piazza Damiano Saud e insomma ci piace finire così poi ecco un po' di vita che poi è quella che io ritrovo alla Garbatella ogni volta che ci vengo infatti quando arrivavo non sapevo poi a che ora me sei andato via effettivamente e sì poi vabbè i matrimoni ecco qui ci avviciniamo verso forse già siamo inizio anni 60 dal vestito di Valentino appunto della signora qui Gianna Moriani che infatti la chiamavano Lady Garbatella perché indossavano un vestito di Valentino quindi siamo appunto inizio anni 60 e insomma un po' di benessere è arrivato anche qua ecco ok allora non so ecco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ok allora non so se ci sono qualche intervento qualche persona che vuole condividere un pensiero altrimenti se no io ringrazierei Antonio sicuramente per questo per questo evento per questa serata perché anche attraverso queste foto abbiamo avuto modo di assaggiare un po' il libro io sono contento di aver partecipato a livello personale lo voglio dire anche davanti insomma davanti a tutti e credo che serate come queste siano utili appunto rimettere in moto un po' di storie familiari dentro un percorso collettivo e comune che riguarda tutte e tutti anche e soprattutto nell'idea di città come diceva prima anche l'editore cioè proprio la storia di Roma che si ricostruisce in questo modo e dentro un meccanismo comunitario quindi grazie a tutte e tutti per essere stati qui ringrazio Antonio Tiso ringrazio mille piani di nuovo Felipe e tutti coloro che insomma hanno partecipato non so se vuoi chiudere tu dicendo una battuta se no insomma se qualcuno ha qualche domanda perché non volete bene allora buona serata grazie a tutti